Musica Nello splendido scenario del campus Primavera abbiamo a nostro fianco Antonio Buratti, il presidente della United Aprilia. Si confermo e diciamo che oggi abbiamo una presentazione di tutta la squadra rispetto all'anno scorso, l'anno scorso siamo andati a un punto ma sicuramente anche per causa nostra non abbiamo vinto il campionato. Quest'anno abbiamo fatto qualche innesto, sicuramente innesti validi, innesti abbiamo preso il pivò che ha fatto diciamo l'anno scorso ha fatto circa 50 gol a stagione, abbiamo preso un centrale, abbiamo preso diversi giocatori nuovi. Quindi quest'anno la Serie D la vogliamo sfaltare proprio completamente. Non ci sta avversario che tenga, penso che circa metà campionato avremo, lo dico adesso perché avremo circa 10 punti in più rispetto al secondo. Ecco presidente quindi già si parte con dei presupposti molto decisi rispetto all'esperienza fatta quindi lo scorso anno, qualcosa è mancata, si è cercato di andare ad aggiustare quello che diciamo tra virgolette non ha funzionato, però diciamo che comunque rimane sempre una, è stata una bella stagione ma quest'anno ormai non ce ne sarà per nessuno. Mi auguro sì, io adesso per carità non voglio essere presuntuoso, però l'anno scorso abbiamo iniziato per scherzo, per gioco, diciamo tra amici siamo incontrati, abbiamo deciso di fare questa squadra e col tempo abbiamo visto che eravamo, non dico forti perché non abbiamo vinto, però quasi forti perché sono arrivati a secondi da un punto. Quindi quest'anno non ce n'è per nessuno raga, non ce n'è per nessuno. Ecco presidente accanto a questa prima squadra, lo sottolineiamo, è nata o meglio sta nascendo un settore giovanile. Diciamo che abbiamo iniziato quest'anno a scuola calcio, abbiamo già diverse telefonate da diversi gruppi dai 5 anni in su, quindi diciamo che vogliamo fare circa 3 gruppi dai 5, 7, 7, 9, 9, 11 e quindi vogliamo diciamo piano piano ci stiamo inserendo nel menuto sportivo che aprilia forse queste cose c'è un po' di carenza. Ecco si gettano le basi per un futuro certo non sarà immediato però nei prossimi anni potremmo magari portare qualche squadra giovanile anche in giro per questa regione. Sì certamente, infatti l'obiettivo nostro adesso sarà anche fare l'Unter 21 perché a Serie C sicuramente andremo a fare anche l'Unter 21 perché ciò richiede come regolamento. E quindi ecco stiamo cercando dei nuovi personaggi a livello giovanile, nel senso l'Unter 18, 18, 19 anni e già qualcuno ha inserito nella prima squadra. Poi vorremmo fare dei stage nelle scuole perché vogliamo vedere i ragazzi validi. Diciamo perché no inserirsi nella prima squadra se no anche per l'Unter 21. Allora scendiamo nell'organigramma, abbiamo avuto anche al nostro fianco il presidente quindi la maggiore rappresentanza di questa società ma non perché le altre figure siano meno importanti come quella appunto di Fabrizio Magrin, il direttore sportivo di questa United fortemente evoluta lo scorso anno. Esatto Niente, è un inizio della nuova stagione con la prospettiva di poter fare meglio sicuramente l'anno scorso vedendo i precedenti sembrerebbe sulla carta di fare solo un piccolo salto ma in realtà anche quest'anno la vedo dura e nella nostra mente c'è quello di far bene in tutti gli effetti iniziando dal discorso disciplinare che per noi è importantissimo perché l'immagine della nostra società è la prima cosa e poi soprattutto nell'ambito sportivo è quello di arrivare a poter ambire a vincere questo campionato. Ecco Magrin, la cittadinanza a questo punto come sta rispondendo? Visto che il presidente ci ha svelato appunto della fondazione, della creazione, della nuova partenza di questa, non possiamo parlare di squadre giovanile ma bensì di un settore giovanile. Sì, noi abbiamo fatto una cosa totalmente diversa da tutti quanti perché vogliamo dare, ripeto, puntiamo molto sull'immagine perché vogliamo dare a questa città un'immagine diversa di quello che fanno magari tutte le altre società e siamo arrivati a partire con una scuola calcio iniziando da bambini dei 4 anni quindi penso che non tutti lo facciano in questo tipo di scuola e cercando prima di tutto di trovare dei tecnici affermati e soprattutto preparati. Ecco, allora l'anno scorso tu ci svelassi un po' diciamo tra le righe anche a microfoni spenti di un grande progetto che avevi in mente e che forse nei prossimi anni saresti riuscito a portare ad Aprilia e nello United d'Aprilia. Sì, uno è questo, essendo come hai detto te un segreto tra virgolette continuiamo a mantenerlo tale e questa della scuola è una cosa che io ho voluto fortemente insieme a tutti i miei collaboratori, insieme a Trobiani e altri e ci chiediamo fortemente. è difficilissimo perché ad Aprilia poi ci sono molte scuole calcio e noi abbiamo voluto puntare sul non avere una scuola esagerata di iscritti ma soprattutto dare la possibilità di formare una scuola diversa, ripeto, con delle situazioni diverse che potrebbero essere ad esempio, ecco questo lo posso dire, cercheremo di fare delle lezioni in inglese durante la scuola. Quindi insegnare a fare sia il socievole che lo sport insomma. Allora è molto difficile, diventa poi difficile quando dai quadri dirigenziali si scivola verso diciamo l'organigramma della squadra, con Cristiano Trubiani una colonna portante, un fondatore, un factotum, definirti diventa veramente difficile. Grazie, diciamo delle parole che usi per ricordare, spero le persone si ricordano quando uno non gioca più, io ancora sto micimento in questo sport. Ricordiamolo che comunque non sono poi pochi gli anni, cominciano ad essere tanti, non solo anagraficamente. Sì, iniziano ad essere tanti, però lo faccio con la stessa passione di quando ero piccolo e proprio con questa passione da quest'anno cerchiamo di aprire la scuola calcio United dove vogliamo assolutamente improntare quello che è da noi grandi, da prima squadra, ai più piccoli. Infatti partiremo con una scuola calcio dai 4 anni in su, cosa che in giro ce n'è poco. Ecco, hai esultato tanto per tanti campi in giro per la provincia, anche al di fuori di questa provincia, ti sei trovato anche a cimentarti in ambito regionale. Quanto è cambiato il futsal a Latina, provincia di Latina, ad Aprilia e anche fuori? Molto, molto, è cambiato molto e sono contento di questo perché sai quando si andava in giro per i campi o comunque a parlare con i colleghi o i compagni e dicevi, sai, in categorie nazionali, regionali, in C1, i campionati erano diversi e anche in altre situazioni. Oggi siamo arrivati che la Serie D questa appena passata ha visto il Real Port de Cora vincere a un solo punto di distanza da noi, lo Sporting General Resource è ugualmente arrivato secondo o terzo insieme a noi, poi ha vinto, è passata con la finale regionale che ha perso, comunque è passata meritatamente e noi per un ciuffo, per un punto siamo rimasti indietro, comunque anche altre due o tre squadre che erano dietro di noi se la giocavano tutta, infatti il campionato di Serie D è diventato assolutamente una terza C2, chiamiamola così e il campionato che ho visto adesso che fanno la C2 è molto, molto livellato, quindi secondo me si divertiranno loro, anche noi, ma loro si divertiranno molto in C2. Qual è il messaggio che però a questo punto Trobbiani come atleta, Trobbiani come dirigente o come Trobbiani anche osservatore a questo punto potrebbe lanciare a dei giovani che si vogliano affacciare a questo sport e qual è il segreto magari, se esiste un segreto? Ma guarda, il segreto, allora ognuno, il talento bisogna averlo dentro, però se non hai umiltà nella vita non arriverai mai, questo sia nello sport che nel lavoro che nella vita di tutti i giorni, quindi io auguro a tutti i bimbi, i ragazzi, i giovani, anche quelli che oggi si affacciano nel mondo del calcio a 5, che sono sempre di più attenzione perché è uno sport che sta prendendo piede o futsal come tanti lo giustamente chiamano e niente, di essere umili perché purtroppo sembra una fase fatta ma chi vola a mezzo metro da terra prima o poi, un anno, due anni, tre anni poi si vedono i limiti propri dei giocatori e degli uomini soprattutto. Ci ritroviamo qui anche per questa stagione 2014-2015, manca più di un mese proprio a una sede di partenza, è bello comunque ritrovare ancora Maggi alla guida della United. Grazie per questa cosa, no, la società avevamo un progetto già dall'anno scorso e quindi lavoriamo tranquilli. L'anno scorso è andata così e quest'anno cercheremo di fare sicuramente meglio. Il meglio, essendo arrivati secondi a un punto, migliorarci vuol dire vincere. Ecco, mister, quanto è importante quando si riceve ancora una gratifica e quindi continuare a lavorare con un gruppo che tra l'altro insieme con tutti gli addetti ai lavori hai migliorato. Sì, ma non solo per merito mio, perché la società è nata e si è organizzata anche prima che arrivassi io, nel senso che sono loro che hanno scelto me. Non si pensa, è bello e importante soprattutto essere confermati, ma soprattutto essere confermati con questi giocatori, con questi ragazzi, che l'anno scorso, nonostante ce ne fossero diversi, chi era al primo anno, chi è un po' più giovane, chi era anche fermo, hanno dato il massimo per poter raggiungere poi un risultato che secondo me è stato un ottimo risultato. Per un pelo non abbiamo vinto, ma è stato comunque un ottimo risultato. Adesso guardiamo un attimo a grandi orizzonti e proprio con una panoramica generale di quanto accade nel nostro paese nazionale, provinciale, regionale e quant'altro. Si parla tanto di settori giovanili, ma anche nel futsal si fa fatica veramente a creare qualcosa di importante, quindi se non altro dare un ricambio immediato, perché ormai ce ne sono tanti di questi giovani, giovani ancora chiamiamoli così, tanti giocatori che sono ormai verso la fine della carriera. Che cosa è che servirebbe per poter curare e quantomeno stare al passo con gli altri settori giovanili, quindi al di fuori del nostro paese? Sicuramente un po' più di visibilità, anche se negli ultimi anni la visibilità del calcio a 5 è aumentata, principalmente a livello nazionale, quindi a 1 e a 2 principalmente. La nazionale è anche cosa che prima lo era un po' meno. Per quanto riguarda i settori giovanili bisogna partire prima di tutto da istruttori preparati, perché come era nel calcio molti anni fa qualunque giocatore di qualunque categoria finiva di giocare e cominciava ad allenare senza nessuna competenza a livello di psicomotricità, soprattutto per i bambini. Adesso si pensa subito a fare gli schemi, dobbiamo per forza, devi giocare lì, devi giocare a due tocchi, ma se il bambino non è capace a stoppare una palla o a fare un passaggio, come pretendi che poi possa fare il dribbling. Non parliamo soltanto di tecnica, ma soprattutto almeno in età molto tenera parliamo un po' di educatori. Quello che dicevo prima, istruttori, quindi educatori non solo a livello punto psicomotorio, ma anche a livello di educazione e di rispetto per l'avversario, per il compagno di squadra, per le persone più adulte e per chi è lì per insegnare una disciplina fondamentalmente. Il discorso sarebbe ampio perché anche in altri campi può capitare, capita e in altri sport. Però principalmente penso sia, il problema tra virgolette sia quello, sempre tra virgolette perché poi non è un problema, però per far crescere uno sport bisogna fare questo. Scusate, bisogna trovare persone in grado di poter insegnare sia l'educazione vera e propria, quindi sportiva, rispetto a quello che ho detto poc'anzi, ma anche psicomotriciato, cioè il bambino deve imparare a correre, ad essere coordinato, a riuscire a stoppare una palla in questo caso piuttosto che a tirare a canestro per il basket. Negli altri sport probabilmente esistono già nel calcio a cinque ancora poco, ancora poco. Speriamo di migliorare. Allora, Gianmaria Cianfanelli, confermato anche lui come molti altri nel roster di questa United, qualche soddisfazione anche lui vuole togliersela? Sì, diciamo questo è il secondo anno che ho sposato il progetto United Aprilia. Ho seguito insomma le orme del mio amico Cristian Trobbiani e mi ha convinto comunque a venire giù. È una realtà importante, mi sono trovato benissimo il primo anno e speriamo quest'anno di toglierci questa soddisfazione e di passare, diciamo, di vincere il campionato. Ecco, quindi negli anni ti sei anche guadagnato un po' una figura, ti sei ritagliato veramente un grande spazio accanto proprio, come hai detto tu, hai sottolineato l'amico Cristian Trobbiani, poi sei diventato anche una colonna portante. Quanto è importante questo verso la squadra e verso l'esterno di questa società? No, è importante perché comunque, ecco ti ripeto, il gruppo è molto buono, la società è serissima, è una delle società più serie in cui sono stato, ho transitato, dopo lunghi anni di calcio a 5 che ho svolto insomma negli ultimi anni, sì ecco, l'importante è andare tutti decisi verso l'obiettivo finale. Ci hanno raggiunto la nostra postazione del microfono, praticamente due artefici che insieme a United Aprilia hanno voluto sposare questa causa, sono un po' i responsabili di questa agenzia di Aprilia, stiamo parlando del General Italia. Esatto, io sono Marco Miscischia. Francesco Scozzari. Bene, allora, un connubio nato sicuramente nel corso dell'estate, un po' per passione, un po' per amicizia, un po' per la passione anche per questo sport, vi siete avvicinati appunto alla United. Esatto, ma già dallo scorso anno, quando è iniziato il progetto, ci siamo avvicinati alle United grazie proprio a Cristian Trobiani, che è uno dei fautori di questo progetto. Ci ha coinvolto, noi per passione calcistica e per lo sport in generale, abbiamo pensato di intervenire con anche la nostra presenza, rappresentando sul territorio un'azienda che comunque già a monte fa attività di sponsorizzazione sportiva. Ecco, quanto succede poi in campo, sugli spalti, naturalmente? Come viene vissuta la figura un po' di imprenditore, un po' di libero professionista, come quanto si vuole dire? Come la vive un libero professionista questa visione di queste gare? Beh, da un punto di vista sportivo sicuramente è un momento di sfogo, se vogliamo, dell'attività un pochino più pesante, lavorativa che si fa durante la settimana. In ogni caso, quello che mi interessava anche mettere in evidenza è il fatto che quello che ha interessato noi è soprattutto l'iniziativa verso i ragazzi, verso i giovani, che Cristian nel tempo vuole intraprendere. E questa cosa, siccome noi la gestiamo anche a livello professionale, lavorativo, nei confronti dei genitori, per l'assistenza sui ragazzi, per il percorso di crescita dei ragazzi, anche nel senso di risparmio, eccetera, diciamo, ci sembrava veramente interessante mettere insieme queste due cose. Ecco, viene voglia, viene in mente qualche volta di allacciarsi, una volta nel calcio si dice lo scarpino, la scarpetta, per poter confrontarsi con questi ragazzi? Sicuramente sì, poi insomma, come ognuno di noi ha velleità sportive, voglia di magari provare a giocare, però il fatto di vedere dei ragazzi che imparano, credo che sia la sensazione, il piacere più grande. Lasciamo giocare loro che forse è meglio. Quindi si rimane a questo punto semplici spettatori, gioire, anche dolori quando ce ne sono, però è bello anche vederle queste cose. Assolutamente sì, il bello dello sport è proprio questo, ci sono momenti di gioia quando si vince, momenti di dolore quando non si vince, però il campionato, la partita è quello. A quel punto però che cosa viene da dire? Chi ha ragione, chi ha torto? Oxias, tutti ragioni e tutti hanno torto. Ma la ragione alla fine non sta mai né da una parte né dall'altra. Certo, quando si perde la sconfitta brucia, poi se è stato l'arbitro che magari poteva guardare meglio o effettivamente il giocatore che non ha azzeccato il tiro, questo lo lasciamo appeso.